La doppietta di Zaldua regala tre punti al Trinitapoli che spugna lo stadio di Lido di Biceglie battendo 1-2 l'Unione Calcio, padroni di casa che perdono così la seconda sfida casalinga su quattro partite totali, sei punti invece nelle due trasferte, fattore casa che non sorride ai ragazzi di Luca Rumma per la compagine di Giuseppe Scaringella, otto punti in quattro match imbattuti come le capolista Barletta e Corato, gara vivace sin da subito al di Lido, alla prima buona occasione gli ospiti trovano già il vantaggio, settimo minuto, filtrante di Alba per Zaldua, l'attaccante argentino trova il diagonale vincente che piega i guantoni di Di Bari e vantaggio Trinitapoli, dopo pochi minuti l'Unione Calcio non reagisce, prova a contenere gli avversari, al dodicesimo palla persa dai bisceliesi, Bonanno prova a punirli dalla distanza ma il suo destro è alto, i padroni di casa si fanno vedere concretamente per la prima volta al diciannovesimo, Zinetti crossa per Manzari che di testa manda sul fondo, al ventesimo Stele prova la botta sorpresa da lontano ma non c'entra lo specchio della porta, al trentunesimo punizione affidata a Manzari e traiettoria che non lascia scampo a migliaccio e uno a uno al di Lido i padroni di casa festeggiano ma un minuto dopo al trentaduesimo subiscono la pronta reazione del Trinitapoli, Quintadamo conclude in porta, Di Bari respinge, poi arriva Bonanno che manda alto, occasione sciupata, all'intervallo le squadre sono ferme sul pareggio, nella ripresa parte meglio il Trinitapoli all'undicesimo, Alba prova l'acrobazia, Di Bari attento e manda la sfera in corner, Manzari al venticinquesimo lavora un buon pallone sulla sinistra, poi mette al centro per Amoroso che non impatta al meglio di testa, l'azione sfuma, partita che scivola verso il finale sull'1-1 ma al 44esimo un lancio preciso a scavalcare la difesa, trova Zaldua che tutto solo davanti a Di Bari sceglie il pallonetto facile facile che vale la rete del 2-1 in favore del Trinitapoli, doppietta dell'attaccante argentino, già la seconda in questa stagione e sale a 5 gol nella classifica marcatori, l'unione calcio non reagisce e al 45esimo rischia la terza rete con Stefanini che manda al lato da buona posizione, triplice fischio e 1-2 il finale dal Diliddo, il Trinitapoli di Scaringella e al terzo posto in scia alle prime due in classifica il Biceglie dovrà invertire quanto prima la rotta tra le muramiche.